Iscriviti al canale e non dimenticarti di cliccare sulla campanella per ricevere le nostre notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Sono notato Gesù Cristo, benvenuti in questo messaggio di Gesù e della Madonna al leggente Marco Taddeo nelle apparizioni in Brasile del 7 gennaio 2022. Gesù Sacro Cuore, mie anime nette, vengo di nuovo a dirvi, sono l'amore e solo attraverso l'amore potete trovarmi, quindi voi dovete essere atti di amore continui. Siate continui atti di amore, vivendo continuamente, incessantemente nella mia grazia, lotandomi, amandomi, donandomi i vostri cuori e vivendo completamente nel mio cuore, lasciando che la mia grazia operi in voi e trasformi ciascuno di voi in immagine viva del mio cuore. Siate continui atti d'amore, ripetendo incessantemente tutto il giorno, mio Gesù ti amo, affinché i vostri cuori si accendano veramente nelle fiamme del vero amore per me, e affinché io possa effondere gratuitamente lo Spirito Santo su di voi, affinché Egli possa trasformarvi in ciò che il mio Eterno Padre ha sognato, in ciò che tanto desidera, un riflesso vivo della nostra grazia e bellezza. Siate continui atti d'amore, pregando continuamente la coloncina del mio sacro cuore, la coloncina dell'amore, la coloncina della misericordia, vivendo continuamente alla mia presenza, pregando con il vostro cuore, adorandomi, leggendo i miei messaggi. Preparatevi, perché tra breve sorprenderò il mondo, sì, come un laccio che cade, verrò all'improvviso e prenderò ciascuno nelle opere che fa, e guai a coloro che fanno le opere delle tenebre. Maria Santissima, cari figli, il mondo troverà pace solo se ritorna a Dio. E' impossibile avere la pace senza il rosario, senza la preghiera, nelle cose montane, con il rancore nel cuore, pensando solo alle cose umane e montane. Figlio mio Marco, anche se quelli a te più vicini non ti capiscono come quelli a lui più vicini non capirono mio figlio Gesù, io sono a tuo fianco, capisco la tua sofferenza e non ti lascerò mai, mai. Benedico ora te e tutti i miei amati figli da Lourdes, da Pontmain e da Giacarelli. Siamo dato Gesù Cristo nel cuore immacolato di Maria. Questo è un messaggio molto bello perché per la prima volta forse sono emozionato nel sentire Gesù che ha ripetuto una frase molto bella. Il Padre Eterno sogna. E quindi il fatto stesso che il Padre di tutte le cose che ha creato Gesù, che ha generato Gesù e ha creato noi, che ha creato tutti gli universi, tutti i mondi abitati e tutte le cose che noi non possiamo neanche comprendere e immaginare. Questo Padre sogna e quindi sogna e spera che i suoi figli facciano quel salto di qualità per somigliare a Gesù, suo figlio e nostro Signore e Salvatore. Un Padre che sogna tutto ciò è un Padre che sicuramente merita il nostro amore. Il nostro amore che va conformato all'amore di Gesù, che è il vero amore. Infatti Gesù ci dice piccole cose in questo messaggio. Prima di tutto ci insegna piccole preghiere. Com'è questa piccola frase che è un piccolo atto di amore? Mio Gesù ti amo. Ora siamo lontani dall'insegnamento nella Divina Volontà, dato a Luisa Piccarreta. È un insegnamento troppo alto che molti non potrebbero comprendere, però Gesù ci ricorda una cosa importante, quello di adorarlo, amarlo, pensarlo. E allora noi possiamo cominciare durante la giornata a fare questi piccoli atti di amore. Per esempio io che sto registrando questo video posso dire Mio Gesù io ti amo con la tua volontà perfetta in questo registrare il video per il canale YouTube affinché tu possa rapire attraverso questo messaggio i tuoi figli quei pochi figli che andranno ad ascoltare questo messaggio e possa lo stesso messaggio condurre i tuoi figli a ripeterti in tutte le loro azioni durante la giornata Mio Gesù io ti amo Ti amo nel mio camminare, nel mio pensare, nel battere del mio cuore involontario nel mio respirare volontariamente, involontariamente e così via in tutte le azioni E in questo modo cominceremo a realizzare singolarmente il sogno del Padre far felice Gesù in questi piccoli atti di amore perché messi insieme l'amore ci farà trovare pronti durante l'avvertimento perché Gesù ce l'ha detto in questo messaggio vero all'improvviso e prenderò ciascuno nelle opere vuol dire che ognuno di noi sarà da solo durante l'avvertimento e saremo giudicati nelle opere in queste opere d'amore certo saremo giudicati soprattutto nella malvagità perché Gesù ci farà vedere la nostra coscienza però poi su questa bilancia ci sarà anche tutte le opere di amore che avremo fatto e allora non perdiamo tempo cominciamo fin da oggi a dire Gesù ti amo mio Gesù io ti amo con la tua volontà perfetta e la Madonna continua parlandoci della pace una pace che il mondo non troverà perché tutto il mondo come ben sappiamo non ritornerà a Dio o ritornerà una parte del mondo quella che si convertirà che cambierà vita dopo l'avvertimento che si preparerà si preparerà alla giustizia divina che si preparerà al ritorno di Gesù si preparerà a questa lotta contro l'anticristo quel popolo di Dio che possiamo precisare che è vaccinato che non è vaccinato che comunque ha il vaccino che ancora non ha ricevuto da Gesù che è l'amore l'amore messo in tutte le azioni e noi dobbiamo imparare a a offrire a Gesù per mezzo del cuore immacolato di Maria il nostro ti amo Gesù ti amo Maria in questa opera d'amore e quindi nel parlare nel respirare nel camminare nel lavorare nel dormire nel riflettere nel anche nello stare con Gesù e Eucharistia allora Gesù come ha insegnato Luisa Picareta abiterà nei cuori dove regna la pace è un cuore dove regna la pace è un cuore che comincia a fare questi atti di amore tutti i giorni è un cuore che prega è un cuore lontano dalle cose del mondo è un cuore che comincia a dire di no ai piacere della vita ai piacere della carne per impegnarsi a piacere a Gesù e alla Madonna sia lodato Gesù Cristo nel cuore immacolato di Maria finalmente è uscito il mio libro la mia esperienza di conversione a Medjugorje nel 2012 attraverso questa estasi con Gesù Cristo potrai scaricare il mio libro gratuitamente dal mio sito troverai il link in descrizione e ti abbraccio e ti porto nelle mie preghiere a Medjugorje